la riforma sanitaria delle marche diventa legge primo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di pesaro vandali all'agrario cecchi sale la conta dei danni settore legno arredo nuove opportunità dai bandi regionali il prossimo 10 agosto sarà illuminato da 20.000 candele sotto le stelle un buon venerdì sera a tutti voi amiche amici telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati sul canale 80 ben ritrovati su rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione delle 5 agosto apriamo con la riforma sanitaria delle marche che dopo tre giorni di dibattito e 170 emendamenti votati è diventata legge sparisce dunque l'asuro unica viene soppressa l'azienda ospedaliera marche nord dal 2003 arriveranno cinque aziende sanitarie territoriali una per provincia dopo tre giorni di dibattito in consiglio regionale la riforma sanitaria delle marche è diventata legge ad approvarla 19 voti favorevoli quelli relativi alla maggioranza di governo otto contrari circoscritti all'ala pd e rinasci marche e due astenuti riferibili a movimento 5 stelle gruppo misto una maratona di tre giorni con 170 emendamenti discussi un centinaio dei quali del pd che ha visto bocciate diverse proposte compresi gli emendamenti sul fine vita partito democratico che ha fortemente contestato la logica di legge maggioranza che invece porta l'iter legislativo dove voleva con il presidente acquaroli che ha definito la riforma come l'atto di governo più importante di questa legislatura un atto supportato dall'appoggio dei consiglieri di maggioranza era una riforma che avevamo già proposto all'interno del nostro programma elettorale in campagna elettorale quindi abbiamo solamente promesso cioè abbiamo solamente mantenuto una promessa che è stata fatta in campagna elettorale su una legge la legge 128 in un percorso complesso all'interno della commissione sanità con tante audizioni tanti confronti ma sicuramente siamo arrivati alla fine di un percorso con un percorso molto importante la riforma sanitaria cancella l'asur regionale unica che esisteva da 19 anni dal 2023 nasceranno cinque aziende sanitarie territoriali provinciali che saranno articolate in distretti e dipartimenti marche nord è l'unica azienda ospedaliera che viene soppressa dalla riforma confluirà nell'azienda sanitaria territoriale della provincia di pesaro urbino il 37 per cento della modalità passiva di tutta la regione marche è assorbita da marche nord quindi era necessario porre un rimedio e trovare una soluzione e ancor più in vista del nuovo piano socio sanitario che andrà a rivedere un po tutta l'organizzazione in questo caso qui dei servizi territoriali servizi di territorio e di conseguenza anche la carenza cronica di posti letto sanità più radicata nel territorio è stato il concetto cardine che ha polarizzato il percorso della riforma il covid ha evidenziato tutte le criticità territoriali del dei problemi del dell'entroterra e questa riforma va proprio in quel senso lì quindi di integrare i nosocomi della costa con il territorio quindi un'integrazione chiara e che porti equità assoluta nei territori e la figura del direttore dell'integrazione socio sanitaria va proprio in questa direzione anche in virtù di tutti i fondi che arriveranno con il pnr in riferimento all'ospedale di comunità case di comunità e centri operativi territoriali nelle intenzioni la frammentazione dell'asor unica in aziende provinciali dovrebbe portare ad un sistema sanitario più snello e sburocratizzato maggior potere direttori ai direttori generali l'abolizione dell'asor unica le funzioni di asor su alcuni temi ad esempio come la centrale acquisti andranno direttamente all'ars all'agenzia regionale sanitaria che avrà la funzione di di centralizzare i acquisti e creare anche delle economie di scala che portino sicuramente di risparmio quindi efficientamento del sistema garanzie per tutti ci sono due nuovi casi di vaiolo delle scimmie che sono stati accertati nelle marche a confermarlo e stefano menzo il direttore della virologia dell'azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di ancona si tratta di due uomini adulti italiani uno diagnosticato nella provincia di ancona e l'altro in quella di pesaro urbino si tratta del primo caso registrato nel pesarese e sono invece il secondo e il terzo nelle marche a distanza dal primo registrato in un 42enne a scolano un mese fa attualmente sono 505 i casi accertati in italia per una patologia che colpisce quasi esclusivamente gli uomini appena 4 infatti i casi registrati nelle donne situazione sotto stretto monitoraggio anche nelle marche considerati i ben 57 casi diagnosticati nella vicina emilia romagna passiamo alla cronaca perché sale la conta dei danni e degli ammanchi all'istituto agrario cecchi di pesaro dove come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi si è registrato uno sconsiderato ride vandalico nella notte fra mercoledì e giovedì è stato completamente danneggiata la tensostruttura per il rimessaggio degli attrezzi sono state fortemente danneggiate aule container sono stati rotti pc e un televisore acquistato da due mesi oltre ai tanti vetri infranti insomma danni che ammontano diverse migliaia di euro e mentre prosegue la caccia ai responsabili la dirigenza scolastica in stretto contatto con provincia e regione disposti ad un pronto intervento per il ripristino di attrezzature ad un mese dalla partenza del nuovo anno scolastico cambiamo argomento e parliamo di economia le nostre telecamere oggi si sono accese al cosmob di monte labate dove i principali esponenti di categoria delle imprese dell'arredo si sono riunite con regione marche e con la camera di commercio per aprire una importante finestra su rilevanti opportunità di sviluppo del settore un summit fra regione marche camera di commercio e le associazioni di categoria del settore del legno e dell'arredo della provincia di pesaro urbino questa mattina nella sede monte labatese di cosmo quartier generale dello sviluppo tecnologico di impresa si sono accesi i riflettori sui due bandi regionali in cui l'assessorato allo sviluppo di mirco carloni dallo scorso giugno ha voluto costruire due pilastri al rilancio della competitività industriale i bandi in termini di filiere ed ecosistemi e quello sugli investimenti produttivi che scadono il 30 settembre e che rappresentano un importante stimolo allo sviluppo del legno arredo in un contesto geopolitico molto complesso abbiamo presentato due pilastri che sono state due leggi e poi due bandi quello sugli investimenti per rafforzare tutta la parte degli investimenti costruttivi ampiamento ristrutturazione oppure riutilizzo di cappalloni abbandonati e poi quello delle filiere che è il cuore pulsante della nostra strategia qui oggi c'era una fatta una fetta importante della produzione della nostra provincia della città di peso dell'entroterra è legata ad esempio al mobile io credo che questo bando nella sua visione di rafforzare la trasferimento tecnologico l'innovazione di prodotto di processo produttivo per il mobile può essere molto importante anche per il contoterzismo che può strutturarsi meglio e avere in condivisione degli investimenti che lo rendano più forte più competitivo sui mercati quindi io mi auguro che da qui da oggi dal cosmo di peso dalla camera di commercio qui a pesero possa nascere un progetto di filiera molto più strutturato e che rafforzi il nostro sistema produttivo che oggi scontra di grandi difficoltà ma solo rafforzandosi può superare quelle che arriveranno purtroppo sono 2623 le imprese del settore mobile arredo marchigiane di queste la stragrande maggioranza ovvero 1288 sono in provincia di pesero con oltre 116 milioni di euro come valore dell'export nel primo trimestre 2022 va da sé che ragionare di filiera rappresenta il salto di qualità per una strategia di sistema consiste in un sistema dove tre almeno tre aziende anche micro imprese si organizzano per fare degli investimenti condivisi possono essere logistici informatici tecnologici oppure per fare quei beni materiali la ricerca i laboratori ricerca sui materiali e certificazione dei prodotti marketing gestione dei clienti data center tutte quelle cose che possono rendere anche le micro imprese competitive sul mercato ma che non hanno magari la forza di farle insieme oppure la cui utilità fatta in modo individuale rischia di pesare troppo sui conti dell'azienda facendoli in filiera cioè facendoli insieme rendono l'azienda più competitiva ma al tempo stesso rafforzano un sistema in una sola azienda inoltre c'è il vantaggio del rating di filiera perché se una vera e propria filiera costituita che ha un finanziamento per gli investimenti che vuole fare si presenta alle banche con un rating di filiera certamente ottiene anche maggior e migliore accesso al credito carloni anche rimarcato la strategia a monte della stesura dei bandi come il punto di discontinuità rispetto al passato noi abbiamo individuato in otto nove leggi tutta la visione dell'economia e dello sviluppo economico fatta questa visione strategica abbiamo calato i bandi e quindi le aziende sanno dove la regione vuole andare e dove insieme alla camera di commercio insieme anche i soggetti come cosmo che una società partecipata anche indirettamente dalla regione quali sono le ricette su cui si sta puntando giuste o sbagliate ma a differenza del passato oggi c'è una visione strategica mercoledì 10 agosto torna candele sotto le stelle torna per l'ottava edizione ad illuminare la costa di pesaro quella di gabice e il borgo storico di gradara con oltre 20.000 fiammelle dopo due anni di limitazioni con tamponi e green pass a rubarsi la scena torna protagonista della sua serata la notte più glamour dell'estate pesarese candele sotto le stelle arrivata la sua ottava edizione è pronta per mercoledì 10 agosto ad illuminare la costa di pesaro e gabice e il borgo storico attorno al castello di gradara l'eleganza del vestito bianco si prepara a prendersi la scena anche per quest'estate in quest'anno come sempre avremo i mille pali presenti in acqua con le citronelle che dureranno più di otto ore quindi abbiamo una durata molto ampia dell'illuminazione più altre tantissime candele tantissime lumelle che andranno a illuminare anche i vari stabilimenti balneari perché noi daremo un kit a tutti i bagnini daremo tutti un kit con tantissime candele che alcune le ho mostrate prima in conferenza stampa e di un totale di più di 20 mila fiammelle quindi abbiamo più di 20 mila fiammelle presenti per quella serata abbiamo gabice gradara poi non dobbiamo scordare anche vallugola e la spiaggia di fiorenzuola quindi abbiamo in linea d'aria 20 chilometri di estensione di dell'evento e solo 7 chilometri comprende pesaro solo lungo tutta la litorale con i vari bagnini vari stabilimenti e proprio in adiacenza lì alla sfera grande di pomodoro avremo una scritta composta da più di 400 candele anzi ne aggiungeremo anche 500 candele che andranno a comporre la scritta pesaro 2024 dopo due anni in cui sono stati in parte limitati dalle modalità di flusione e ora diciamo ritorno alla normalità pur con l'attenzione ovviamente al tema del covid che non è del tutto scomparso ma anche con la consapevolezza che un evento così all'aperto costituisce anche diciamo la cosa più bella e sicura che si possa fare diciamo in questi in queste state così calda e così bisognosa di momenti piacevoli di ritrovo la spiaggia che continua a illuminarsi con decine di migliaia dicono 20 mila insomma candele per tutto per tutto il litorale e eventi che ritornano anche musicalmente ci hanno quegli spazi che avevamo evitato di percorrere negli ultimi anni compreso anche un concerto in piazzale della libertà la partecipazione di gradara e di gabice mare quindi anche qui diciamo una mettere in pratica il senso della riviera del san bartolo e anche raccontare un'offerta turistica anche un ringraziamento naturalmente a tutti quelli che lavorano per questo grandissimo sforzo a partire dalla prologo di candelara per sensazioni dei bagnini degli albergatori tutte le realtà i restauratori stessi tutti quelli che sono coinvolti nel fare funzionare un piccolo miracolo organizzativo perché comunque puoi ospitare decine di migliaia di persone in un lasso di tempo anche ristretto è anche un bello sforzo organizzativo quindi tutta la logistica voglio ringraziare naturalmente anche il nostro centro operativo la protezione civile le forze dell'ordine che consentono anche appunto che sia un grandissimo evento ma nella massima tranquillità e poesia di come è stato concepito di come si mantiene con una gran forza dopo san decenzio e via gradara continua l'opera di riqualificazione dei sottopassaggi urbani della città di pesaro attraverso la street art dei murales ultimo lavoro in corso è quello che state vedendo in via raggi coordinato dall'associazione reperti urbani che si avvale del contributo dell'artista claudio sale obiettivo dell'opera di sale è raccontare il caos della città e dell'uomo che la vive in un groviglio di vie volti di emozioni che il cuore pulsante della realtà urbana e proseguono gli spettacoli al parco miralfiore di pesaro che domenica 7 agosto propone un musical per tutta la famiglia cenerentola di rancia verde blu la compagnia dell'arancia porta infatti in scena questa favola dal 1988 con uno spettacolo che richeggia gli anni 50 arricchito dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale ricordiamo che cenerentola è stato il primo musical scritto dal regista saverio marconi ispirato alla fiaba tradizionale uno spettacolo che nel 2005 il comune di roma insegnì dello speciale premio maria segnorelli per aver ottenuto il maggior gradimento da parte del pubblico di bambini tra gli oltre 40 spettacoli andati in scena nell'allora stagione 2003 2004 ancora culture passiamo all'arte 36 pittori 8 scultori 25 ceramisti e 8 foto e 5 fotografi sono questi i numeri di un esercito di 74 artisti che da domani darà il via alla tradizionale esposizione della gavardiana che inaugura domani alle 18 e 30 nella corte di palazzo mazzolari mosca pittura scultura ceramica e fotografia l'arte all'aperto della 33esima edizione della gavardiana verrà ospitata dal 6 al 13 agosto da tre luoghi del centro storico vicini tra loro via gavardini palazzo gradari e palazzo mazzolari mosca tre punti che vedranno colorarsi di artisti e pullularsi di gente è un modo per scoprire la bellezza del patrimonio artistico ma anche una bellezza di creatività di artisti che da decenni anche con un certo ricambio generazionale insomma si cimentano in pittura ceramica scultura e da qualche anno anche fotografia una bellissima cartolina per i pesaresi per i turisti in particolare nel mese di agosto tra loro signora per a festival e altre situazioni insomma tutti contribuiscono a creare questo clima in altri tempi probabilmente con questi artisti che presentano le proprie opere e anche fanno comunità artistica si incontrano e si conoscono è bellissimo il dato di quest'anno anche di un certo arrivo di nuovi giovani artisti perché la gavardiana è una cosa che affonda diciamo negli anni 60 poi è stata interrotta per ogni tempo è stata ripresa e ovviamente serve anche coinvolgere gli artisti ci sono stati ragazzi che hanno spinto artisti un po' meno giovani ma che hanno aperto ed è bellissimo questo spirito nel segno dell'arte e proseguono anche le celebrazioni per il centenario dalla nascita del grande soprano pesarese Renata Tebaldi domenica un altro appuntamento coordinato dalla Wunderkammer Orchestra avevano già intenzione come Wunderkammer indipendentemente di celebrare Renata Tebaldi con un concerto e quando siamo stati coinvolti abbiamo pensato a questa tavola rotonda che avrà luogo domenica alle ore 17 a Palazzo Montani Antaldi per cui ringraziamo non solo il Comune ma anche la Fondazione Cassa di Spagna di Pesaro per l'ospitalità e poi a seguire alle 21.15 ci sarà il concerto con Diana Guglina soprano bulgaro che esce in qualche modo dalle nostre scuderie se mi ha consentito a definire così il rapporto che c'è e poi Lorenzo Bavai che è ben noto agli uffici come pianista accompagnatore abbiamo cercato di puntare al meglio e credo senza nulla togliere ai relatori che sono in scaletta abbiamo Michael Aspinall che è un nome illustrissimo perché si tratta direi senza tema di smentita del maggior storico della vocalità a livello internazionale a seguire mi piace citare Carla Maria Casanova che è stata la biografa ufficiale di Renata Tebaldi ed è una saggista e giornalista molto importante in campo operistico e musicale poi abbiamo Alessandra Rossi che è la referente artistica della divisione opera Wunderkammer Orchestra ed è un'apprezzatissima docente di canto nonché soprano noi italiani in particolar modo Pesaro si possono sentire onorati e freggiati di questa grande concittadina ecco per me è un grande onore in qualità di soprano che ho svolto una carriera di circa 20 anni non ho potuto affrontare il repertorio della Tebaldi la mia era una voce tipicamente mozzartiana ho avuto la soddisfazione di esibirmi in teatri importanti dalla scala in poi e poi dopo mi sono dedicata alla didattica per la quale ho una particolare versatilità e questo mi ha avvicinato sempre più a questi grandi interpreti di quest'arte che possono essere per noi una luce ispiratoria che possono illuminare il cammino di tanti giovani che in questo momento si dedicano con spirito di sacrificio e pazienza a questa bellissima ma difficile arte e come ogni weekend continua la divertente estate dell'arena BCC domani nell'anfiteatro di Fanese di Tre Ponti il San Costanzo Show porta Fano indietro nel tempo fino alle sue origini romane con lo spassoso spettacolo Cesare Agusto col San Costanzo Show l'appuntamento del 6 agosto Arena BCC con il nuovo spettacolo Cesare Agusto viaggio comico nelle Marche ai tempi dell'antica Roma al termine dello spettacolo proiezione del nostro cortometraggio sempre con il tema Roma antica dal titolo La scoperta del secolo i soliti attori del San Costanzo Show grandi attori Davide Bertulli, Cesare Agusto Massimo Pagnoli, Giovanni Gian Giacomo il San Costanzo Show al completo Oscar Genovese, Romina Antonelli quest'anno hanno gli entri, abbiamo anche un cane abbiamo anche un cane chi è il cane? è lui è lui è il cane il solito cane vi aspettiamo 6 agosto Arena BCC Cesare Agusto e concludiamo il nostro TG con immagini di sport ieri è finita con una sconfitta a testa alta per 4 a 1 l'amichevole di lusso che ha visto la Vis giocare a Sassuolo contro il club neroverde di Serie A un buon test per la squadra di Sassarini che ha dato spunti confortanti con il gol di Gucci Valso il momentano 3 a 1 in mezzo alle reti del Sassuolo di Torstved, Maxim Lopez, Alvarez e Raspadori slitta intanto adatta da destinarsi la compilazione dei calendari di Serie C che era prevista per oggi ma appunto è stata rimandata in seguito ai ricorsi di Campobasso e Teramo che erano state escluse dalla Lega Pro si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale prima di salutarci vi ricordo la nostra prima serata che alle 21.20 è dedicata allo speciale che abbiamo realizzato a Montelavate in occasione della 76esima Sagra delle Pesche e poi l'informazione su Rossini TV vi dà appuntamento a domattina alle 7.20 sempre e rigorosamente in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani locali della provincia di Pesaro Urbino buongiorno Rossini a tenervi in compagnia sarà il nostro Marco Cadettu ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei programmi di Rossini TV e vi ringrazio per averci seguito